per contrastare i disturbi della menopausa. Stiamo parlando di un integratore a base di estratti secchi di erbe a titolo noto con aggiunta di alcuni sali minerali e vitamine soprattutto essenziali importanti per il nostro organismo e le troviamo questo integratore in delle compresse da un grammo luna pronte per essere praticamente assimilate. Andiamo a vedere quali ingredienti sono presenti all'interno di questo prodotto in particolar modo il kuzu o kuzu come lo vogliamo chiamare, la dioscorea, la melissa, l'angelica, la salvia, il metilsulfometano MSM, il glicoglugolato, la vitamina E, la vitamina A, il metilfolato e praticamente l'acido folico, la vitamina D3 e la vitamina B12. Dove ci troviamo adesso? Ci troviamo in questo scenario bellissimo, l'isola di Capri sappiamo nell'arcipelago partenopeo è caratterizzata dall'avere la grotta azzurra che è una cavità che è lunga circa 60 metri, larga 25, profonda praticamente dai 22 ai 14 metri, quindi bella profonda e a una volta alta circa 7 metri che può arrivare in alcuni punti fino a 14 metri. Il meraviglioso colore azzurro che noi osserviamo della grotta è dovuto a un complesso fenomeno di rifrazione e così anche i faraglioni che sono i faraglioni di terra o stella che è l'unico praticamente che si trova in terraferma ed è il più elevato con i 109 metri e il faraglione di mezzo saetta, quindi stella e saetta, che è quello presente in cui è presente quella cavità centrale, una galleria, un tunnel di circa 60 metri. Di questo integratore per la menopausa che contiene il kuzu praticamente nel circa in 200 milligrammi all'interno di questa compressa di un grammo, poi contiene in quantità di 50 microgrammi la dioscorea, la melissa, l'angelica e la salvia, poi ancora il metilsulfometano che è praticamente 50 grammi, poi è presente la vitamina D3 al valore del 100% del valore nutrizionale di riferimento, lo zinco al 25% del valore nutrizionale di riferimento, quindi una quota minore rispetto a quella presente per esempio nel prodotto per la prostata e per gli uomini, la presenza di selenio al 100%, l'acido folico, la vitamina B12, il boro, la vitamina E e la vitamina A che sono molto importanti praticamente per contrastare la menopausa. La menopausa che di per sé lo sappiamo è un evento fisiologico che colpisce la donna praticamente al termine della vita sessuale, cioè della sua fecondità, della sua fertilità e corrisponde quindi proprio al termine oltre dell'età fertile anche di tutti i cicli mestruali e l'organismo accade questo perché l'organismo incomincia a produrre meno ormoni che sono necessari per mantenere la funzione riproduttiva femminile, in particolar modo gli estrogeni portando a maturazione gli ovociti e la loro fecondazione in pianto all'interno dell'utero e quindi il graduale abbassamento di questi ormoni, in particolar modo gli estrogeni, è la causa primaria di tutti quanti tipici e fastidiosi sintomi della menopausa che vengono solitamente chiamati sintomi climaterici. Quindi la donna va in questo climaterio quando si abbassano gli ormoni, in particolar modo gli ormoni estrogenici che sono quelli che servono a far maturare gli ovociti. I sintomi del climaterio, i sintomi climaterici come li vogliamo chiamare, sono caratterizzati innanzitutto dalle vampate, chiamate da qualcuno le caldane, dalla secchezza vaginale, dagli sbalzi di umore, dai disturbi, come se fosse una fase preme o restruare, dai disturbi del sonno, dal fatto che si manifesta sulla pelle che diventa più sottile e fragile e soprattutto anche disturbi a livello della memoria e dei livelli di attenzione. E quindi molto importante nella menopausa per contrastare questi sintomi negativi andare praticamente ad agire in modo significativo su quello che è il benessere nutrizionale e perché ormai la donna quando entra in menopausa rischia che mangiando allo stesso modo in cui lei mangiava prima rischia praticamente di avere un accumulo di grasso. In particolar modo questo grasso si va a accumulare a livello praticamente del grasso addominale e a livello praticamente quindi del girovita. E quindi è molto importante tenere in menopausa sotto controllo l'alimentazione e soprattutto il girovita. Ma se tutto finisse lì non sarebbe un problema che la donna che ha un'attività estrogenica durante il periodo fertile e quindi una componente protettiva sul sistema cardiovascolare e sul deposito del calcio all'interno delle ossa ma incontro proprio per la caduta degli estrogeni ai fenomeni di osteoporosi ma udite udite anche al rischio di malattie e patologie cardiovascolari con la stessa velocità di quelle che possono colpire un uomo. E proprio per evitare di incorrere in disturbi della menopausa e per quindi far stare bene una donna senza dover ricorrere a quelle che sono quelle terapie ormonali sostitutive sono stati immaginati questi integratori a base di estratti vegetali di erbe a titolo noto. Tra queste sicuramente il più interessante di quello che è presente nel nostro prodotto è il kuzu. Il kuzu praticamente è una radice tuberizzata che serve a migliorare la sintomatologia della presenza soprattutto grazie alla presenza nel suo interno dell'isoflavone puerarina. La puerarina che oltre ad essere facilmente questo isoflavone assimilabile si contrasta, si caratterizza per un'alta biodisponibilità ed una notevole stabilità e la radice del kuzu contiene praticamente proprio un elevato contenuto di isoflavoni. Oltre alla puerarina praticamente contiene la genisteina e la daizdezeina che svagano un'azione antinfiammatoria e detossificante in grado di ridurre i sintomi. Per esempio molto utilizzato il kuzu praticamente per contrastare i sintomi della dipendenza da alcol o da nicotina, da fumo e la puerarina abbiamo detto è importante anche perché fa produrre alti livelli di serotonina inibendo il rilascio di dopamina e di noradrenalina in quelle specifiche regioni del cervello, quindi inoltre è per questo è utile per problemi di microcircolazione, è importante per i disturbi della menopausa, è importante per l'iperfezione, è importante per contrastare l'emicrania. E quindi le principali azioni dell'estrato di kuzu che troviamo nel nostro prodotto sono principalmente rappresentate della capacità di favorire la liminalizzazione ossea contrastando praticamente l'osteoporosi, di contribuire al miglioramento l'abbiamo detto del microcircolo e del flusso arterioso, ha un'azione protettiva al kuzu praticamente sui disturbi legati alla produzione di adrenalina e in particolar modo le scariche di adrenalina sono quelle che danno le vampade e danno anche quelle palpitazioni, quindi il kuzu va a regolare praticamente quello che è il ritmo cardiaco e va soprattutto a contrastare anche gli sbalzi pressori. Svolge questa azione mio-rinossante ed è un antinaturale, antipiretico, antitolifrifico ed è un potentissimo antiossidante. E cos'è il kuzu? È una pianta praticamente che cresce selvedicamente, originariamente viene dal Giappone ed è praticamente una forma di leguminosa e appartiene praticamente alle piante perenni. Diciamo che una pianta, ricordiamo questo concetto, è una pianta perenne quando vive più di due anni. In realtà il kuzu riesce a vivere praticamente fino a 100 anni e quindi rappresenta un vegetale molto resistente ed è quello che noi dobbiamo fare. Un po' sembra come una vite che raggiunge 100 metri di lunghezza e i suoi rami possono crescere fino a 30 centimetri in un giorno e fino a 30 metri in una stagione. Quindi una pianta praticamente molto importante che può infestare dei territori e cresce anche in condizioni poco favorevoli ed è proprio nel tuber, nelle radici che noi andiamo a prendere praticamente quello che è il prodotto che serve a noi per svolgere quelli fenomeni grazie all'apporto di fitoestrogeni utili in menopausa per contrastare le ipersudorazioni notturne, le vampate, facilitare la riminalizzazione ossea, aiutare il sistema cardiovascolare e calmare la fame nervosa. Poi lo sappiamo che il kuzu viene utilizzato anche praticamente in ambito fisioterapico per i disturbi gastrointestinali perché abbassa i livelli di acidità, favorisce praticamente il processo di gestione e soprattutto anche diciamo contrasta quei fenomeni di asfefazione, infatti è stato uno di questi motivi soprattutto per contrastare la dipendenza da alcol e da nicotina che ha dato vita praticamente al kuzu, praticamente soprattutto perché? Perché agisce anche su neurotrasmettitori della serotonina, agendo anche su glutammato il gato, in grado praticamente anche tanto da stimolare anche la produzione di dopamina e quindi in tal modo praticamente compensa quel desiderio del piacere che viene a mancare fumando e bevendo, non fumando e non bevendo più. Quindi abbiamo capito anche la grande importanza dei suoi contenuti che sono, l'abbiamo detto, la genisteina e la daizina anche contro il cancro e anche la sua importante azione antimicrobica, antinfiammatorio, l'abbiamo parlato rispetto ai disturbi cardiovascolari come la genodectis, il pectoris, l'ipertensione e i disturbi del cranio. Dopo avervi parlato del kuzu, che mi sembra diciamo sia molto importante, abbiamo la dioscorea che rappresenta una grande attività ossidante antitolorifica ma soprattutto viene utilizzato la dioscorea in ambito farmacologico per la produzione e l'emisintesi praticamente degli ormoni steroideo. è una pianta infatti ricca, la dioscorea, di diosgenina. La diosgenina è una saponina che pare avere praticamente proprietà estrogenica alla pianta stessa e quindi è un integratore alimentare importante non solo nell'ambito disturbi della menopausa ma anche nella sindrome per mestruale, quindi lo potete dare anche alle vostre figlie che praticamente soffrono di disturbi premestruali e inoltre svolge anche la dioscorea praticamente un'azione antinfiammatoria ed è importante utilizzato come precursore per la sintesi degli estrogeni e del progesterone. Inoltre praticamente anche lui calma le coliche biliari, i crampi, la dismenornea e i spasmi addominali e soprattutto diciamo quelli che possono essere i dolori articolari. La salvia inoltre è un altro prodotto presente all'interno praticamente del nostro preparato ed è importantissima perché ha un effetto positivo nell'alleviare le vampate di calore e soprattutto nell'agire regolarizzando la sudorazione. Quindi la salvia è ottima per contrastare i processi di sudorazione e agisce favorevolmente sull'ansia che si crea a seguire queste condizioni quali le vampate, la sudorazione e il tono dell'umore e inoltre può essere utilizzata anche la salvia nel cortastare oltre alle emicranie anche la ritenzione indica e praticamente dà un senso di benessere al naso e alla gola. Poi abbiamo questo prodotto molto importante presente all'interno del nostro preparato è il metilsulfonilmetano che è un composto organico sul furio che normalmente è presente entro la frutta, nei vegetali, nei semi e che lo prendono direttamente nel terreno e questo metilsulfometano praticamente MSM è importante per i dolori osteoarticolari derivanti da osteoartriti e per contrastare tutti i processi degenerativi e infiammatori delle cartilagini e quindi svolge grazie per le sue proprietà anti-infiammatorie anti-dodifiche soprattutto importanti contro i disturbi o i dolori osteoarticolari e infiammazione di cartilagine e quindi svolge un'importante azione controprotettrice evitando confiore e rossamenti dell'articolazione e quindi oltre ai dolori articolari l'interazione con MSM cioè metilsulfonilmetano praticamente può essere utilizzata udite udite nella donna per rinforzare la struttura dei capelli e delle unghie e soprattutto la cicatrizazione delle ferite oltre alla funzionalità gastrointestinale. Capite sempre che quello che funziona bene sulla parete del gastrointestinale funziona bene anche sulla pelle e in particolar modo l'MSM oltre a sulle articolazioni funziona sui capelli praticamente e sulle unghie quindi è molto importante per contrastare quei fenomeni di invecchiamento tipici della menopausa e quindi questo nostro integratore praticamente favoloso che ho questa oggi ho presentato in questo bellissimo panorama praticamente dell'isola di Capri guardando i faraglioni e guardando e ricordando la grotta azzurra che nella menopausa praticamente e per contrastare la menopausa noi dobbiamo non ricorrere a terapie farmacologiche ormonosostitutive ma degli integratori a base di erbe a titolo noto e l'abbiamo detto e ricordiamolo ancora il kuzu che favorisce la normale funzionalità dell'apparato cardiovascolare e svolge tutte le funzioni che abbiamo appena indicato dal punto di vista del contenuto degli isoflavoni, la dioscorea, l'angelica e la salvia che favoriscono praticamente anche loro il contrasto praticamente ai disturbi della menopausa, la melissa che è presente nel nostro preparato che serve a ridurre, a dare rilassamento e benessere mentale, la salvia che abbiamo detto la sua funzione specifica per contrastare quelli che sono i disturbi a regolarizzare la sudorazione e poi c'è un pool di nutrienti importanti, vitamine e sali minerali quali l'acido folico e la vitamina B12, li ricordiamo, che scontribuiscono al normale metabolismo dell'omocisteina e riducono la stanchezza, lo zinco che contrasta e contribuisce e serve a contribuire a regolare il metabolismo acidobase, il selenio che favorisce la normale funzione della tiroide che tende ad addormentarci con l'entrata in menopausa e inoltre la vitamina A che oltre nota per mantenere una vista normale è importante e ideale funzionalità epatica perché la vitamina A si va ad accumulare nelle cellule dito che sono le cellule poste nella situazione pericinusoidale che in condizioni di stress epatico possono trasformarsi in miofibroblast e chiudere quella entrata praticamente del flusso sanguigno che a caso mai dove sono contenute tossine, preservando gli epatocidi con il processo della fibrogenesi. E quindi ecco che noi abbiamo disponibile questo integratore che rappresenta veramente un'ottima soluzione che noi possiamo avere disponibile ad un prezzo veramente equo di 10 euro con un contenuto praticamente di 60 compresse da un grammo luna in grado di contrastare i disturbi della menopausa che vanno dalle vampate di calore fino a trapassando attraverso la soluzione ai disturbi cardiovascolari, i disturbi praticamente neurologici e i disturbi praticamente osteoarticolari, sull'osso e sull'articolazione che noi possiamo così tranquillamente contrastare e non ricomentichiamo l'importanza del benessere della pelle, dei capelli, delle unghie e soprattutto è importante contrastare la secchezza vaginale per avere una vita sessuale, mantenere una vita sessuale felice e continua che è la garanzia della stabilità di un rapporto di coppia. Quindi abbiamo diciamo così un integratore veramente efficace per sostenere questo grande stress metabolico che è praticamente l'organismo subisce la donna durante il periodo della menopausa, scusate, la menopausa lo ricordiamo comincia con un periodo chiamato premenopausa che inizia, che dura in media 10 anni questo periodo, che inizia a 45 anni e termina a 55 anni. Se voi praticamente avete due anni prima dei 45 anni una menopausa parleremo due anni prima di menopausa precoce. Se la menopausa avviene due anni dopo i 55 anni parleremo di una menopausa tardiva. In media però le donne incominciano ad avere la comparsa della menopausa tra i 45 e i 55 anni dove si va consolidando questa caduta progressiva degli ormoni, in particolar modo degli estrogeni, portando praticamente all'infertilità, alla scomparsa dei cicli mestruali, quindi la menorrea, la menopausa e quindi facendo comparire tutti quei sintomi, in particolar modo un'attenzione particolare, lo ricordiamo, va data all'alimentazione e un controllo del vostro girovita per evitare l'accumulo del grasso praticamente addominale che si comincia ad accumulare con il girovita e tutti i disturbi che abbiamo detto. Quindi non solo per contrastare i disturbi fastidi ma anche per prevenire i disturbi cardiovascolari, i disturbi neurologici, i disturbi osteoarticolari che colpiscono la donna e soprattutto la secchezza e la fragilità della pelle, l'indebolimento dei capelli e delle unghie e la secchezza vaginale.